Eccolo qua Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers Io sono Jonathan ed eccoci qui da ragazzi di nuovo con Pokemon GCC Gioco di carte collezionabili online ragazzi Per un grande pack opening dopo le live che abbiamo fatto ragazzi Grazie a tutti quelli che erano presenti durante le live Ci siamo divertiti un mondo, ci saranno altre live Prossimamente, non vi preoccupate Voi iscrivetevi al canale o cliccate tanti like E farò altre live subito subito nei prossimi giorni E spero che mi seguirete in tanti Oggi grande pack opening su Pokemon Speriamo di trovare qualcosa di buono Voglio prima di tutto ringraziare tutti quelli che mi hanno regalato codici Per appunto le buste di Pokemon gioco di carte online Solo grazie a loro posso fare questo video, questo pack opening Quindi ragazzi se volete inviarmi i codici vi lascio in descrizione Il mio account Instagram dove tramite direct potete inviarmi i codici delle bustine Che magari voi non usate o non giocate a Pokemon gioco di carte online Per vari motivi non vi servono E vi ringrazio se me li date perché posso fare i video così E anche sulla pagina Facebook ve la lascio sempre in descrizione Tramite messaggio privato logicamente Voglio ringraziare quelli che mi hanno inviato i codici Ringrazierò anche voi se mi inviate i codici Allora ringrazio Marco Aquino Mart Giorgio Sper97 TomTab17 I miei idoli sul social Blade Matteo Russo Youtuber MyLove Onofrio Miccolo Grazie ragazzi per avermi inviato i codici per Pokemon GCC E ringrazio anche Durante la live di Pokemon abbiamo ricevuto le prime donazioni Ringrazio Alex di Costanzo Alex Vals02 E PepShiny96 Grazie per le donazioni Ma andiamo andiamo a spacchettare Ah no aspetta Ma prima devo farvi vedere cosa avevo aggiornato Cosa sto combinando su Pokemon dopo la live Cosa ho combinato Allora ho finalmente iniziato a creare il mio deck drago ragazzi Dragon Force l'ho chiamato Poi ho comprato come da voi ho consigliato il deck folgore lucente Quello di Zapdos Che mi è uscito pure Dragonite fortissimo E l'ho aggiunto nel deck drago E vediamo un po' E ho fatto anche degli scambi ragazzi Grazie a tutti quelli che mi hanno regalato le carte Come Gabbo917 Samuele E altri che non ricordo Ma grazie di cuore a tutti quanti che mi avete regalato anche le carte Con scambi proprio Vi vendevate una carta scarsa E mi davate un Pokemon forte Allora vi faccio vedere Questo è il mio deck Consigliatemi cosa aggiungere a questo deck Cosa può mancare Questi sono tutti i Pokemon Allora ho scambiato degli X che mi avete regalato Eccetera Con alcune carte Ho preso questo Raikwaza qua Bellissimo ragazzi Bellissimo Perché questo Raikwaza mi fa prendere il Mega Raikwaza dal deck E così posso fare subito E così posso fare subito Mega Raikwaza quando mi esce questo qui E infatti mi sono fatto dare Eccolo qua Con uno scambio privato Con uno scambio pubblico Mi sono fatto dare Mega Raikwaza X Con colpo smeraldo Ragazzi è fortissimo Quando entra in campo questo Metto tutti Ho la panchina piena Distruggo qualsiasi avversario Anche grazie a questo A questo qui Che mi fa prendere una volta al turno Una carta Drago dal deck Grazie a questo Questo mi salva sempre ragazzi Perché mi fa prendere le carte Drago Dal deck A Beveruni A Migliara come diciamo noi Quindi vabbè Ho preso anche questo Raikwaza normale Non X Quindi sto facendo Ho fatto il deck in pratica Dragonite Raikwaza Però Ragazzi poi vabbè Queste sono le carte allenatore Vi faccio vedere Una Poi magari mettete pausa Devo trovare altre due carte Energia Drago doppie Perché sono davvero davvero utili Per il mio deck Logicamente E niente Andiamo a spacchettare Già ne sono andato per le lunghe Andiamo a spacchettare Quindi consigliatemi Cosa aggiungere nel deck I codici Link in descrizione Dell'account di Instagram E la pagina Facebook Tramite messaggio E niente Andiamo a spacchettare E andiamo a spacchettare Allora Abbiamo dieci buste in totale Quindi aprirò cinque La metà Oggi E vediamo un po' Apriamo subito la prima Vai la prima questa qui con Con Il pony sopra Se è un pony Un cavalluccio Vai E spacchettiamo E speriamo di trovare Qualche full art Qualche X Andandomi invitate sempre A fare le partite Ragazzi Pure quando sto registrando Vediamo cosa c'è di nuovo Oddish Che non avevo Questo meo Va bene Ci sono due carte Andiamo La prima Uuuu Bam Musciarna No Musciarna Fai che sia un X Fai che sia un X Blastoise Blastoise Ah ma è quello che dà il premio Di questa Sfida allenatore Di questa In questo periodo Vabbè 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 Apriamo la prossima Apriamo subito la prossima Questo qui con Darkrai sopra Magari ci uscisse Magari ci uscisse E apriamo Vai E la seconda bustina Vai qualcosa di buono Vai vai qualcosa di buono Ti prego Un bel drago Mega potente Uh Bulbasaur Mi piace Bulbasaur mi piace Poi c'è Una caramella rara Ragazzi Se per caso c'è qualche Carta buona Che non mi sono reso conto Che mi è uscita Voi ditemelo Nei commenti Ditemelo Apriamo Uuuu Bam La Feon Questo mi serve Mi serve forse Mi piace pure come Pokemon Però Cioè Non potevo uscire di meglio Potevo uscire di meglio Andiamo con la prossima La prossima Voglio che sia Vapori accesi Vai Vapori accesi Vai Anzi no Aspetta Non vapori accesi Facciamo questa qua Apri Perché qui vedo Che ci può uscire qualcosa di buono Antigli origini Vai E questa è la terza E questa è la terza Esci qualcosa di buono Per piacere Escilo Esci Esci il Pokemon Esci il Pokemon Mi è uscito questa energia Esci il Pokemon Niente di buono Esci il Pokemon Buono Yeah No Pensavo che fosse un X Invece Vispy Queen Vabbè 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 Non so Se è proprio buona Buona Apriamo Turbo Blitz Adesso ci esce un X Di Ehm Ci esce un X Di Mewtwo Qualcosa di Di pesante Qualche Turbo Qualche Turbo Mega Turbo X Full Art Ehm Oh Già sono due Già sono due Qui intanto vediamo Delle belle carte Vediamo Andiamo avanti Bommete Questa qui Slowking Va bene Oh Bomm Sta andando proprio bene Purtroppo Porca miseria Porca miseria Allora Apriamo Questa qui Dai Apriamo questa qui XY Altrimenti questa qua Questa qua Vai Apriamo questa Escilo Escilo Il Pokemon Forte Escilo Per piacere Escilo Che mi devo far dare Altri Raikosa Devo essere pieno Di Raikosa Oh Oh Già mi è uscito Le gambe mentale Con Gardevoir Gardevoir Credo che Vada Sia buono Perché ce l'ho Boom Amparos Ti ho sentito molto parlare Di questo E' buono ragazzi E' forte Per un deck elettro Se lo faccio Un deck tematico elettro Va bene Mi sono rimaste altre 5 bustine Ragazzi Queste me le conservo Per un altro video Come ho detto Codici Per i codici Link Instagram In descrizione Tramite direct Del mio account Oppure sulla pagina Facebook Tramite messaggio privato Iscrivetevi al canale Se non siete iscritti Ci saranno altre live Prossimamente Su Pokemon GCC Grazie di tutto il supporto Grazie a quelli che hanno fatto La donazione Grazie a quelli che mi inviano codici Grazie a chi scambia le carte con me Non vi preoccupate Ci saranno altre sfide Con voi Spero che il video vi è piaciuto Se il video vi è piaciuto Cliccate tanti bei Mi piace Iscrivetevi alla pagina Facebook Dei amandola brothers Trovate lì in descrizione Iscrivetevi al canale Se non siete iscritti Guardatevi i video scorsi Di Pokemon GCC Grazie ragazzi E che dire Poi può capitare Che il gameplay non vi sia piaciuto Perché non mi è uscito nemmeno un X Però Non vi è piaciuto Da parte di Da parte Del nostro bel Blastoise Madonna Grazie ragazzi Da Jonathan Amentola E Amentola Brothers Al prossimo video Ciao a you Ciao a you